Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Spensa Zaliboni SRL, uno dei principali distributori italiani di snack ma non solo per il vending e siamo in compagnia di Luca Zaliboni Luca è un gran piacere rivederti e riaverti ai miei microfoni di Vending TV dopo molti anni ciao e bentornato ciao grazie e benvenuti a tutti avete tantissime novità che arricchiscono ulteriormente il vostro catalogo che è costituito da decine e decine e decine di proposte ai gestori oggi qui a Venditalia 2024 cosa presentate? noi abbiamo sempre delle novità, noi siamo quelli delle novità diciamo il nostro claim, nuovi dei snack proprio perché fa parte del nostro lavoro la ricerca di prodotti nuovi che siano in linea con i consumi che cambiano continuamente qua a Venditalia è l'occasione per presentare ulteriori novità noi spaziamo dal salato al dolce alle bevande al biologico abbiamo diciamo cerchiamo di raccogliere più prodotti in più linee di prodotti e quindi insomma di novità ne abbiamo anche per questa edizione di Venditalia allora non ti dico presentale tutte perché veramente occorrerebbero ore ma facciamo una carrellata rapida per illustrare a tutti loro le principali novità che oggi presentate qui a Venditalia allora i nostri recenti inserimenti sono soprattutto prodotti al nostro marchio in quanto cerchiamo di valorizzare il nostro marchio e di trasmettere al consumatore con i packaging corretti per il vending tutto quello che è sono i plus del prodotto per cui nel mondo del dolce per esempio abbiamo inserito i donuts che sono delle ciambelle diciamo farcite e ricoperte oppure abbiamo il coco bello per esempio un altro prodotto una barretta al cocco ricoperta di cioccolato e prodotti simili anche nel salato nel salato l'ultima novità che andremo in anteprima è il Karasau Snack che è un prodotto interessante in quanto andiamo nella direzione dei prodotti regionali diamo un'impronta regionale ai prodotti in quanto hanno un valore secondo noi anche questo tipo di prodotti regionali e per il mondo delle bevande? anche nelle bevande noi stiamo allargando la nostra gamma di prodotti abbiamo in previsione entro un mese l'inserimento del magnesium e vitamins è un prodotto sempre senza taurina senza caffeina e questa è stata una richiesta specifica da parte dei gestori vending e che hanno insomma delle caratteristiche importanti sono degli energy drink in lattina un altro prodotto che andiamo inserire è la spremuta 100% anche questo è un prodotto molto simile alla spremuta del bar che va nella direzione delle richieste da parte dei nostri clienti e quindi da parte del consumatore Luca voi avete davvero decine e decine e decine di referenze che andate a proporre al vending ogni anno inserite all'interno del vostro catalogo tantissime novità più che un ufficio ricerca e sviluppo avete un ufficio ricerca aziende qualificate in tutto il mondo per andare a catturare il prodotto ideale per il vending italiano certamente noi collaboriamo con almeno una decina di paesi all'estero andiamo sempre all'estero e cerchiamo di capire i trend di consumo anche all'estero perché molte volte sono da lì che arrivano i trend di consumo anche italiani però soprattutto ascoltiamo i clienti in Italia che sono quelli che la ricerca inizia da lì sono i clienti stessi che ci chiedono i prodotti perché se devono soddisfare certi consumi certe clientele e certe richieste del consumatore per cui insomma la ricerca non finisce mai quali sono i prodotti che dobbiamo attendere per il futuro da dispensa Zaniboni? senz'altro nel mondo delle bevande andremo senz'altro a incrementare perché abbiamo degli spazi e poi cerchiamo sempre di andare verso il mondo salutistico questi secondo me sono i canali verso i quali ci stiamo direzionando proprio perché sentiamo che ci sono i consumi in aumento verso questi tipi di prodotti e allora per tutti coloro che sono all'altra parte qual è l'indirizzo e-mail per andare a contattarvi e richiedere maggiori informazioni e subito dopo la URL del sito per andare a visionare l'enorme catalogo a disposizione sul sito troverete tutti i prodotti tutti i cataloghi che sono scaricabili il sito è www.dispensazaniboni.it e altrimenti ci mandate una mail a infochiocciola.dispensazaniboni.it e saremo lieti di rispondervi io ti ringrazio e noi continuiamo a andare a recuperare altre novità presentate qui a Venditalia e le documentiamo poi subito dopo attraverso un'intervista siamo tutti già provati siamo al primo giorno ma siamo già abbastanza stanchi e Luca? sì in effetti devo dire però è sempre una fiera molto importante nel settore molto specifica del settore devo dire che ci dà molte soddisfazioni e ritornerremo ancora Luca Zaniboni responsabile commerciale Centro Nord per Dispensa Zaniboni SRL grazie grazie a voi un saluto a tutti grazie a voi